Ciao ragazzi, sono qui, sto a trovare Nicola Fisoni, grandissimo famiglione NBF. Allora Nicola, com'è andata la scorsa al stadione? La scorsa è andata un po' in realtà molto semplice, abbiamo preparato una gara in NBF italiani, che purtroppo non è andata come volevamo noi. Abbiamo preparato il tutto perfetto, ma nel ultimo mese abbiamo gestito un pochino male la gara, un po' per colpo mio, un po' per soluzioni esterne, non lo siamo riusciti a fare così piccolo. Io dalla parte mia ti dico che sei un ottimo posatore, ti ammiro tantissimo, ho cercato di imparare da te su certe cose e ho saputo appunto di questo cambio ultimo alla guida, diciamo, come da cose scaturite? Guarda, fondamentalmente è stato un cambio psicologico, io ero molto stressato da anni, ho stato di vita un po' impegnativo, l'università, l'unità, la preparazione, e quindi ho deciso di cambiare anche perché psicologicamente vi sentiamo questi tappi. Capito? Allora, fin a tutto faccio i complimenti al vecchio preparatore che ha fatto il nostro lavoro, guardate. Grazie, anche di grazie. E un in bocca al lupo al nuovo Marco, che sicuramente saprà fare bene. Vediamo. Prossimo anno, obiettivi? Prossimo anno, obiettivi, ovvero quest'anno è NBF in selezione di cerca, poi si spera ovviamente di partecipare gli italiani e di vincere la prima. Ok, in bocca al lupo di qua, saluta, Yumi, ciao, ciao.